Siamo qui nella piazza principale di La Spalmas con Silvia il giorno dopo. Ma facciamo prima un piazzo indietro. Ogni anno a Carnevale alla Spalmas qui alle Canarie si festeggia per un mese intero. Costruiscono questo palco in mezzo alla piazza con tantissimi posti, con tribune e sedie per partecipare e ogni sera c'è uno spettacolo diverso. Questa volta toccava al bodypainting. Forse vi ricordate di Silvia per la Blockchain Week Rome dell'anno scorso dove ha dipinto il corpo di due fantastiche modelle. Questo concorso di bodypainting di rilevanza internazionale ha visto partecipare artisti da tutto il mondo e tra questi c'era anche la nostra Silvia nazionale. Sul palco si sono sosseguiti le varie presentazioni ma tutti noi aspettavamo il momento in cui sarebbe salita sul palco Silvia, Samantha e Jessica che eravamo certi che avrebbero portato in alto anche la nostra bandiera italiana. Numero 13 Pintando il mondo presenta a Samantha Dona Con un maquillacchi di Silvia Vitali con il titolo Atlassi Con un maquillacchi di Silvia 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 Il giorno dopo di un successo italiano alla Spalmas qui alle Canarie Sono con Silvia, Silvia Vitali, una campionessa di bodypainting Soprattutto un'insegnante di bodypainting Ha iniziato facendo gare e poi formando dei campioni, campionesse di oggi che fanno bodypainting credo anche al di fuori dell'Italia Assolutamente sì Sì ho un'accademia, un'accademia alla Vitali Body Art Academy Ho iniziato per gioco tanti anni fa, circa 15 anni fa a fare il trucco per bambini e poi è diventata un lavoro, il bodypainting Adesso lo insegno da diversi anni e abbiamo una scuola e ieri abbiamo partecipato al contest di La Spalma Come è nata questa passione? Come è nata questa tua capacità di disegnare di trasformare poi quest'arte addirittura sul corpo di una persona? Allora dico la verità, in realtà è nato un po' per gioco perché a me piaceva disegnare quando ero piccola però non ho fatto scuole d'arte e ho fatto un corso di make-up artist tanti anni fa e andavo a fare praticamente i villaggi estivi e lì mi prendevano sempre a truccare tutte le persone che andavano sul palco piano 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 vieni, trucca i bambini, una cosa e l'altra e piano piano mi sono addentrata in questo mondo bellissimo poi ho dovuto studiare un sacco su di me per cercare di migliorare e piano piano la cosa è partita ma quasi per gioco poi mi hanno detto no sei veramente brava, insegna, insegnateli ho cercato di migliorare sempre di più di portare quest'arte in Italia che vedevo che qui ancora non prendeva piede mentre in America andava già alla grande e quindi volevamo assolutamente portarla in Italia con la scuola e così abbiamo fatto e se non sbaglio hai già partecipato a tante altre gare in passato non è la prima volta che ti confronti con dei giudici? no, no, non è la prima volta ho già partecipato ad altre gare ho fatto il contesto italiano diversi anni fa mi sembra nel 2015 credo poi ho fatto il campionato mondiale il World Quadipenting Festival insomma è andato bene però nel 2016 e nel 2017 poi dopo, dal 2018 un po' ho detto basta perché mi dedico all'insegnamento perché è abbastanza pesante è un'esperienza bellissima però abbastanza impegnativa e quindi ho detto ok per un po' di tempo me lo prendo solo per insegnare ieri sul palco insieme a te c'erano delle studentesse quindi il lavoro come sempre non sei soltanto tu ma ti fa aiutare da delle ragazze alle quali hai insegnato a loro volta il lavoro il mestiere esatto, la vera magia si crea secondo me, quello che dico sempre dal lavoro di squadra perché se non c'è un'equipe qualcuno con cui condividere la passione non si crea la magia quindi da un po' di tempo che avevo preso le allieve più brave che hanno fatto tanti corsi con me per creare un gruppo che l'abbiamo chiamato le Beauty Painters con cui andiamo insieme a fare diversi lavori e ieri due persone di questo gruppo hanno partecipato alla gara che sono Glenda Pallotti e Federica Lalle che ringrazio tantissimo perché sono state fantastiche sia a livello tecnica che poi a livello di complicità per stare dietro capire quello che va fatto insomma non è difficile che poi c'è stata una piccola gag sul palco perché lei ha fatto anche la coreografia quindi era anche una ballerina e quindi che succede che vanno prima intervistate loro che non parlavano spagnolo magari adesso facciamo vedere questo pezzetto di video e scappano a un certo punto perché l'intervistatore l'intervistava in spagnolo dice dove è Silvia poi arriva Silvia e lei te la sei cavata benissimo hola Silvia molto buona notte felicità grazie 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 Fissel e Sponja Fissel e Sponja Sponja e moltissima grazie alla mia equipa Federica Lalle e Glenda Pallotti molto bene chica felicità grazie grazie e suerte Spagnolo era la prima volta però c'è da dire che mi ero un po' preparata la risposta infatti io come al solito dovete sapere che ogni volta in questi casi dico ecco ne un'altra che parla meglio di me lo spagnolo dopo molto meno tempo di me mi ero un po' preparata la risposta se la sei cavata benissimo abbiamo fatto la performance sul palco perché la modella Samantha Dona che è la ballerina bravissima ci ha aiutato a montare la performance insieme a me che ho dovuto anche ballare e Jessica d'amico bravissima poi alla fine ci hanno chiamato per fare un'intervista io ero già scappata via col piadone ero scappata dico basta è finito tra l'altro dal palco hai sentito parte degli applausi però tutto il gruppo di amici che faceva dai grande lo sentirai poi in questo video probabilmente nella versione dall'altro lato bravi 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 un po' l'avevamo sentito devo dire la verità però mi sembrano un po' troppi per essere solo il nostro gruppo è vero è vero hai conquistato tutto il pubblico secondo me è stato veramente il momento in cui c'è stato un applauso più grande e come sempre quindi l'unione fa la forza quindi tu sei stata bravissima però appunto tutti quelli che hanno collaborato hanno reso possibile quello che è successo assolutamente lo dico sempre cioè il vero segreto delle gare delle cose è la coesione di squadra quindi le mie due allieve che oramai sono collaboratrici Glenda Pallotti e Federica Lalle sono state superlative la ballerina modella stupenda Samantha Dona Jessica D'Amico parte della coreografia e anche una cosa particolare abbiamo usato l'intro della musica con la voce di una nostra amica Daniela Palumbo in arte cobato che ci ha aiutato e ha composto l'intro della musica coinvolta un po' tutta la Spalmouse Family io dietro a fare il video a registrare le reaction degli amici e dai ce l'abbiamo fatta ragazzi per non parlare del tifo perché avevamo tutto il nostro tifo esatto guarda volevamo comprare le trombette ma sicuramente ce le sequestravano per fortuna abbiamo evitato ma hanno sequestrato pure una birra quindi figurati impressioni a caldo molto caldo secondo me a livello coreografico sono stati i numeri uno a livello di disegno se la possono assolutamente giocare perché è stato bellissimo sono molto emozionato vedremo credo da podio credo da podio come sono andate? bellissime bellissime poi voglio dire con la mia musica iniziale ancora meglio tu hai fatto un pezzo della musica un pezzo della musica iniziale bravi le ragazze super bravi super bravi vincono vincono sì certo ragazzi stanno per vincere stanno per vincere taglie sì terzo premio di maquillaggio corporal del carnaval della palma di Gran Canaria 2023 è para il modello Borja Casillas Toledo o lo che è o lo che è o lo che è lo che è grazze della representante di pizzeria pegnate con un maquillaggio di Giuseppe López Vittor Alagon y Greg Castillejo a David si queda un pochino e anche un pochino fuera festeggiamento abbiamo iniziato devo dire molto bene questo primo anno alle Canarie raccontacelo un attimo in poche parole lo rifaresti credo di sì allora avevamo pensato andiamo a vedere come si vive alle Canarie dopo una settimana abbiamo capito che volevamo vivere alle Canarie quindi siamo rimasti siamo rimasti per un anno e siamo d'avvio è un'esperienza pazzesca poi a parte il clima la meraviglia dell'isola ma soprattutto le persone che abbiamo incontrato te compreso che sono state un gruppo meraviglioso quindi ci hanno aiutato a integrarci nel posto che è pazzesco di per sé conoscendoti anche se sei una persona che comunque sei abbastanza competitiva lo so perché al di fuori delle gare facciamo giochi di squadra e cose del genere tra gli amici e lei è competitiva almeno quanto me non ti fermerai qui ti sei iscritto a questa gara hai fatto sicuramente il meglio che potevi ma in poco tempo immagino senza avere poi tutto il team che potevi avere magari in Italia perché le ragazze sono le qui con l'aereo proprio per partecipare prossimi appuntamenti carro di carnevale l'anno prossimo ne vogliamo parlare? un piccolo spoiler diciamo che il nostro sogno sarebbe quello di partecipare proprio al carnevale con un carro con le allieve che fanno magari i body painting che partecipano poi all'interno del carnevale stiamo cercando di portare parte della scuola qui a Gran Canaria questo è il nostro sogno di portarle all'interno di portare le allieve e di poi partecipare al carnevale quindi tu adesso diventerai la coach dei prossimi campioni dei campioni di domani sarebbe bellissimo vedere magari il prossimo anno sul palco invece che me le allieve dell'accademia quindi l'anno prossimo 14 saranno sue allieve giocherai in casa se non altro abbiamo portato alta la bandiera italiana veramente orgoglio veramente orgoglio italiano in questo caso complimenti Silvia veramente grandissima a questo punto io direi appuntamento l'anno prossimo per vincere il primo premio se non tu comunque qualcuno della scuderia una delle scuderia di Silvia ci vediamo al prossimo video ciao grazie saranno già capitate seconde posizioni a volte sì non si può sempre vincere ragazzi a buona brava bellissima grande Samantha grandissima vai Sammy brava Silvia grande e niente ce ne andiamo non abbiamo vinto ma siamo arrivati i secondi dai l'anno prossimo sarà si vincerà l'anno prossimo l'anno prossimo primo posto assolutamente adesso Silvia ripartirà la scimmia e non mollerà più adesso si è scaldata ha scaldato i motori ha capito come si fa l'anno prossimo bravissima 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 bravissima